Diamo il benvenuto alle cuffie Prestige MDR1ADAC di Sony, progettate per gli appassionati di musica che desiderano una qualità di ascolto eccezionale anche fuori casa. Le cuffie Prestige MDR1ADAC sono dotate di un convertitore DAC che trasforma il segnale da digitale analogico, integrato nelle cuffie stesse. Questo convertitore DAC integrato converte i file digitali fino a 24 bit in segnale completamente analogico. Il segnale analogico così prodotto migliora drasticamente la qualità del suono e ne aumenta il volume, per una qualità audio davvero incredibile, tutta da ascoltare. Questo incredibile livello di qualità è ancora più evidente con i formati audio ad alta risoluzione, come WAV e FLAC, ulteriormente migliorati dal convertitore DAC e dall'esclusiva tecnologia audio ad alta risoluzione di Sony. Le cuffie supportano tutti i tipi di uscita digitale, sia dal PC di casa che da uno smartphone Xperia Z3 e dispongono di tre diverse opzioni di ingresso per adattarsi a qualsiasi possibile situazione. Con il convertitore DAC attivato, le cuffie hanno un'autonomia di riproduzione di 7-8 ore circa, più che sufficiente anche per chi deve affrontare quotidianamente lunghi tragitti da casa al lavoro. E quando poi si scaricano, ricaricarle tramite USB è davvero semplicissimo. Il segreto dell'eccezionale qualità audio di queste cuffie è la tecnologia S-Master HX integrata, di cui dispongono. L'amplificatore digitale avanzato, infatti, riduce qualsiasi distorsione e disturbo indesiderati e consente di ripristinare la qualità audio persa di qualsiasi tipo di file compresso. Il risultato è musica dal suono cristallino, proprio come è stata pensata dall'artista. Con le cuffie Prestige MDR1ADAC, gli amanti della musica potranno finalmente ascoltare la loro collezione con la qualità audio che merita.